Sia il centro-destra che il centro-sinistra sceglieranno i rispettivi candidati sindaci attraverso le primarie. Intanto si intensificano gli appuntamenti nel capoluogo. Ieri la presentazione del movimento Realtà Italia. Dal prossimo mese di febbraio il mercato settimanale tornerà al centro storico. Il comune di Sernia ha detto stop al mercato spezzettato del giovedì e sabato per decongestionare il traffico nell'area del tribunale e allo stesso tempo rilanciare il borgo. C'è tempo fino al 24 gennaio per pagare la mini-imu sulle abitazioni principali oltre 2.500 comuni in tutta Italia, 28 quelli molisani tra i quali anche Termoli e Campobasso ma a meno di una settimana dalla scadenza regna l'incertezza. Ben trovati con l'informazione di Molise TV. Lo avete sentito dai titoli. Partiti e movimenti stanno scaldando i motori in vista delle prossime elezioni amministrative. Nel capoluogo Forza Italia, nuovo centro-destra, Fratelli d'Italia e Progetto Molise hanno detto sì alle primarie aperte a tutta la cittadinanza per la scelta del nuovo candidato sindaco. Sentiamo. I tempi sono cambiati, bisogna fare sintesi e nella sintesi bisogna andare verso lo strumento delle primarie perché è la base che sceglie il vertice e non come negli anni passati che il vertice sceglieva un altro vertice. Penso che avvieremo le consultazioni con tutta la coalizione di centro-destra per poter indire le primarie nella prima decada di febbraio con un regolamento aperto a tutto, a tutti, dove tutti potranno venire a votare il sindaco del 2014-2019. Se tutti dicono sì alle primarie questo significa che il sindaco si sta ritrovando un po' da solo. Guardi, io non voglio alzare il tono della polemica perché in questi giorni già se ne è fatta tanta, però ho difficoltà a intravedere qualche collega consiglieri che aveva detto no alle primarie. La giunta si è espressa sui quotidiani locali, anche tramite la sua televisione, dicendo che il sindaco è il candidato giusto, quindi siamo in democrazia, va bene così, ognuno fa la strada che ritiene percorribile per amministrare il campo basso. La cosa sarebbe spiacevole e sgradevole se agli ultimi momenti della presentazione delle liste chi fine oggi ha difeso una posizione legittima, depuraticamente, poi si viene a collogare i nostri contenitori. Chi è convinto che Di Bartonè sia ancora la persona giusta, come penso che è una persona abbastanza responsabile da poter amministrare il campo basso, deve consigliare lo stesso sindaco di farle primarie perché i tempi sono cambiati. Anche il centrosinistra ha scelto di optare per le primarie per la scelta del proprio candidato sindaco. Le primarie e la fase preparativa delle stesse, si legge nella nota stampa, daranno modo di intraprendere un'ampia discussione su temi problematiche proposte per una nuova città e porteranno con il contributo di tutte le forze di centrosinistra all'elezione di una nuova guida amministrativa che sappia portare la città a capologo a rappresentare al meglio la regione. Per discutere dell'argomento, il circolo del Partito Democratico di Campobasso si riunirà domani pomeriggio 20 gennaio nella sede del partito in via Ferrari. Continuiamo ad occuparci di politica perché si intensificano gli appuntamenti proprio in vista delle elezioni di maggio. Ieri a Campobasso la conferenza di presentazione del movimento Realtà Italia. Sentiamo. Riportare al centro dell'azione politica il cittadino, i suoi diritti e i suoi bisogni, questo l'obiettivo ribadito più volte dai portavoce del movimento Realtà Italia che ieri pomeriggio in conferenza stampa, ha presentato il programma per le prossime elezioni comunali. Il movimento, nato in regione meno di un anno fa, si è detto pronto a conquistare Palazzo San Giorgio presentando una lista e un candidato unico. Già stilata una bozza di programma per la città di Campobasso che comprende un nuovo piano regolatore, la modifica dello statuto comunale e il recupero del mercato coperto senza tralasciare terminal bus, emergenza abitativa e piano urbano del traffico. Il movimento sta ottimando il proprio programma in collaborazione con simpatizzanti e associazioni di categoria, un dialogo aperto come precisato dal coordinatore Emilio Venditti. Dopo i risultati soddisfacenti ottenuti in novembre alle elezioni regionali della Basilicata e in Puglia con due consiglieri regionali eletti, il movimento si appresta dunque a partecipare anche alle regionali in Abruzzo e alle amministrative del capoluogo molisano. presente all'incontro anche il responsabile degli enti locali per il mezzogiorno, Alfredo Borzillo. Una logica di rinnovamento, il movimento si sta strutturando, parteciperemo anche alle regionali in Abruzzo e qui a Campobasso il prossimo mese completando il programma e anche l'individuazione dei candidati incominceremo il confronto con gli altri partiti per cui ci aspetterà un momento di grande lavoro e riteniamo di essere sulla strada giusta. Nuovo incarico nazionale per la parlamentare del Partito Democratico Laura Venitelli. La deputata termolese è stata inserita nel comitato di tesoreria che aiuterà il tesorere del PD nella gestione amministrativa della formazione politica di maggioranza relativa parlamentare guidata da Matteo Renzi. L'incarico ha durata formale di quattro anni e può essere confermato una sola volta. Esprimo massima soddisfazione personale e politica per essere stata chiamata a svolgere un ruolo di responsabilità diretta all'interno del Partito Democratico, ha commentato l'onorevole Venitelli. Ringrazio Matteo Renzi per la fiducia accordatami come professionista ma anche come rappresentante del Molise, circostanza a cui non si è sempre abituati nel panorama politico nazionale. Ha così concluso il deputato molisano. Sono molte le vertenze che interessano le principali aziende molisane che condizionano il futuro di migliaia di lavoratori. Necessario, secondo l'assessore al lavoro Michele Petraroia, collaborazione e compattezza tra le diverse parti coinvolte. Sentiamo. Vertenza è la parola chiave associata al Molise. Gamma, ITR, zuccherificio e in ultimo protezione civile. Una corsa contro il tempo per salvare il futuro di molti lavoratori appesi ad un filo di speranza derivante dai tanti tavoli tecnici messi in piedi dai vertici politici regionali. Si tenta la carta della collaborazione tra il governo nazionale, i ministeri, i parlamentari, prefettura e regione. Il tutto per risolvere questioni a dir poco complesse, come quella dei 218 precari della protezione civile, per i quali il vertice istituzionale di ieri ha confermato quale unico tavolo di confronto, quello coordinato dal prefetto di Menna. Toccherà a lui, unitamente al sottosegretario Sabrina De Camilli, sei parlamentari molisani di Giacomo, Ruta, Leva e Venitelli, verificare la disponibilità dei fondi per il 2014, gli impegni del governo e le alternative occupazionali per i lavoratori. L'assessore al lavoro Michele Petraroia in una nota stampa auspica un mutamento di clima, chi accantoni la strumentalizzazione politica e privilegi la ricerca di soluzioni condivise e di percorsi amministrativi unitari. Sarà arduo strappare al ministro del Tesoro la restituzione dei 5 milioni di euro sulla cassa inderoga tolti al Molise nel 2012 per far pagare i 1626 lavoratori in attesa del 2013, se la delegazione parlamentare si spacca. È il commento di Petraroia che ha assicurato, in merito alla vertenza, un aiuto da parte dell'assessorato di Via Toscana di natura prettamente tecnica. Ciò che si rende necessario al momento dunque è il riconoscimento dell'area di crisi da parte del governo centrale, ma perché ciò accada è altrettanto necessaria la collaborazione tra gli attori delle vertenze molisane, forze politiche, sindacati e lavoratori. Torniamo a parlare proprio dell'Agenzia regionale di protezione civile, a commentare il vertice tenutosi ieri in prefettura il senatore del PD Roberto Ruta, che ha definito l'incontro come positivo per la possibile soluzione della vertenza dei precari. Sono state messe le basi, ha continuato Ruta, per garantire per il prossimo biennio i servizi tecnici e amministrativi per concludere la ricostruzione, per garantire continuità lavorativa e reddituale agli oltre 200 lavoratori. Un percorso tracciato grazie ad un dialogo costruttivo e sereno tra tutti i soggetti istituzionali, le parti sociali e i lavoratori. L'intesa è ancora da definire, ma la strada è tracciata bene, ha concluso così l'onorevole Ruta. E dal prossimo mese di febbraio ritornerà nel centro cittadino il mercato settimanale di Isernia, se ne è discusso nel corso di una conferenza stampa indetta a Palazzo San Francesco. Sentiamo. La giunta comunale di Isernia ha disposto il riordino del mercato settimanale del giovedì e del sabato. Fino a pochi giorni fa i banchi di vendita erano dislocati in luoghi diversi, ovvero in più zone della città. Pertanto, su iniziativa avanzata all'assessore di Baggio è stato deliberato lo spostamento delle bancarelle dalla zona del monumento ai caduti a piazza Celestino V, per unirle alle altre collocate in piazza Andrea di Isernia, nota come piazza Mercato. L'obiettivo di questa amministrazione è riunificare il mercato. Attualmente il mercato è quasi totalmente impercorribile per la sua interezza, perché è suddiviso una parte al monumento e un'altra nel centro storico. Il nostro scopo è riportarlo tutto nel centro storico, come avveniva prima, utilizzando due traverse che sarebbero via Roma e via Grammici. A tale iniziativa hanno preso parte gli ambulanti, i quali entro il prossimo 30 gennaio dovranno far prevenire la richiesta per l'assegnazione del rispettivo posto. Ringrazio la struttura, tutto il SUAP che si è molto predicato per la riuscita. Abbiamo avuto delle riunioni con i commercianti, è una categoria un po' particolare quella degli ambulanti, perché sono molto agguerriti per il modo proprio che hanno di fare, però si sono dimostrati disponibili. Gli ambulanti man mano, anno per anno, rimettevano le licenze e quindi si stava perdendo praticamente il mercato, perché ogni anno avevamo 10-15 ambulanti che rinunciavano al posteggio e a venire ai segni, proprio perché le persone o andavano al monumento o andavano al centro storico. Non vi era più unione, erano due mercati separati e si lamentavano sia gli ambulanti sia i commercianti del centro storico. Questo è stato un lavoro molto importante che ha fatto questa amministrazione, perché non era semplice, perché ci sono dovuti fare delle misurazioni, dei rilievi, quindi la viabilità, tener conto di varie cose e alla fine è partito il bando. Continua la confusione in materia fiscale. Il prossimo 24 gennaio sarà l'ultima data utile per pagare sia la Mini-IMU sia la Tares. C'è però confusione, sono moltissimi i contribuenti che non sanno ancora quanto pagare. Per questo motivo il coordinamento delle associazioni per la difesa dei diritti dei consumatori ha chiesto di spostare l'imminente scadenza al prossimo mese. Sentiamo. Tra Tasi e Tares, IMU e Mini-IMU regna il caos. Manca una settimana esatta, eppure a poche ore dalla scadenza del termine del 24 gennaio i dubbi e le incertezze sulla Mini-IMU non accennano a placarsi. E anzi è quasi certo che andrà avanti fino alle ultime ore utili. Nonostante questo il governo difende a spada tratta l'imposta e assicura un trattamento equo dei contribuenti. Moltissimi consumatori che non sanno ancora quanto devono pagare, per questo il Codacons ha chiesto di spostare la data di scadenza al prossimo mese. L'enigma del residuo dell'IMU 2013 sulla prima casa dunque è difficile da sciogliere. Qualche comune si sta affannando a preparare delle guide per il calcolo fai-da-te, eppure centri di assistenza fiscale e commercialisti continuano a segnalare ingorghi. Come se questo non bastasse, motivi di disagio arrivano anche da altre parti. La situazione viene complicata ulteriormente dalla contemporanea scadenza del pagamento del residuo Tares 2013, per il quale addirittura alcune amministrazioni non hanno ancora inviato i bollettini. Non resta che consultare dunque i siti internet di alcuni comuni, dove è possibile trovare alcune informazioni sul calcolo, su dove pagare, con relativi esempi e link di riferimento per il calcolo dell'imposta, sperando di non sbagliare. La qualità di un servizio sanitario non può e non deve essere misurata esclusivamente in termini di posti letto di unità operative. A sostenerlo il vicepresidente del Consiglio regionale, Filippo Monaco, fondamentale per il consigliere garantire livelli omogenei di fruibilità su tutto il territorio. Occorre rivalutare, ha concluso Monaco, alla luce del previsto processo di integrazione tra Presidio Cardarelli e Fondazione Giovanni Paolo II, l'attribuzione definitiva dei posti letto per acuti al Santimotio di Termoli e di attribuire posti letto di riabilitazione in maniera equa, valutando con particolare attenzione il fabbisogno dell'intera area del Basso Molise. E cambiamo argomento, il comune di Pesco Pennataro e il comune di Capracotta hanno aderito al progetto 6.000 campanili, approvato dal Governo centrale, un progetto che consente agli enti locali di realizzare investimenti per la ristrutturazione e la costruzione di edifici pubblici. Sentiamo Olivia Garofalo. Il decreto del fare approvato al Governo Aletta nel 2013 ha stanziato il progetto 6.000 campanili, con cui sono stati assegnati 100 milioni di euro ad ogni piccolo comune al di sotto di 5.000 abitanti. Il programma prevede interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione, salvaguardia e messa in sicurezza del territorio. Per conseguire questo finanziamento, le 115 amministrazioni locali rientrate nel progetto hanno dovuto presentare un piano di intervento durante il click day, il dito più veloce. Vale a dire, ogni comune che ha cliccato più velocemente sul sito del Lanci è rientrato in tale progetto. In provincia di Sernia, due sono stati comuni che hanno aderito all'iniziativa, il comune di Pesco Pennataro e il comune di Capragotta. Il nostro progetto prevede interventi per la viabilità interna e da quello che abbiamo avuto, già dai primi contatti con Lanci, saremo chiamati nei prossimi giorni per firmare la Convenzione nazionale, in quanto il Governo nazionale ha forte interesse e sta premento molto affinché questi cantieri si attivino immediatamente per dare una boccata di ossigeno all'occupazione. Quindi riparte in minimo anche le dirisi a 100 milioni di euro in Italia, non sono molti per gli interventi, però è un segnale anche dal punto di vista occupazionale. Abbiamo presentato un progetto che prevedeva soprattutto il rifacimento delle strade interne del Paese, dove non occorrevano tantissime autorizzazioni e la necessità per il Paese era urgente, quindi praticamente siamo pronti per queste iniziative. Abbiamo diversi dissesti all'interno del Paese che sicuramente con questo finanziamento dei derivanti dai 6.000 campanilli verranno messi a posto e verranno soprattutto regolarizzati. Il sindaco di Pesco Pennataro, Pompilio Sciulli, ha smorzato le polemiche e le voci di coloro i quali hanno sostenuto che il comune di Pesco Pennataro sia rientrato nel progetto, in quanto lo stesso Sciulli è anche presidente dell'Anci Molise. Dire che Pesco Pennataro è stato avvantaggiato perché io sono presidente Anci, mi dispiace, ma non è assolutamente la verità. Pesco Pennataro, come tutti gli altri comuni, ha partecipato al progetto, è stato più celere degli altri, proprio perché evidentemente si è rivolto a professionisti che hanno saputo gestire la cosa meglio degli altri e siamo arrivati primi, non c'è assolutamente niente. Continuano le iniziative culturali messe in campo dalla Biblioteca Provinciale Pasquale Albino di Campobasso. In occasione della Giornata della Memoria, che ricorre il 27 gennaio, si terrà un evento organizzato e promosso dal Centro Iniziativa Democratica Insegnanti, dalla Società Dante Alighieri di Campobasso e da altre associazioni culturali. L'iniziativa avrà luogo presso l'auditorium ex Gil a Campobasso a partire dalle ore 16, con un nutrito programma di interventi, letture e spettacoli. Questa era la nostra ultima notizia e vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per aver scelto l'informazione di Molise TV. Il meteo è offerto da Burger Prince Fast Food vi aspetta nella zona industriale di Campobasso adiacente al cinema maestoso. Previsioni del tempo per lunedì 20 gennaio 2014. Giornata all'insegna della spiccata variabilità con nuvolosità irregolare, responsabile di acquazzoni sparsi e nevicate sull'Appennino a partire dai 1200-1400 metri. Ventilazione tesa meridionale con mari sempre mossi o molto mossi, anche agitati a largo e lungo le coste esposte. Temperature in generale diminuzione. Campobasso minima 4, massima 7 gradi. Isernia minima 5, massima 12 gradi. Termoli minima 8, massima 13 gradi. Il meteo è stato offerto da Burger Prince Fast Food vi aspetta nella zona industriale di Campobasso adiacente al cinema maestoso. Il meteo è stato offerto da